Marta ha appena compiuto 18 anni e vuole aprire il suo primo conto corrente. È da un po' di tempo che vorrei aprire il mio primo conto corrente. So che ci sono delle spese. C'è anche un beneficio? In fin dei conti sto prestando i miei risparmi alla banca. Certo che sì, ci sono dei benefici. Ci sono anche gli interessi. Prova a spiegarti di cosa si tratta. Partiamo da un esempio. Immagina di andare in banca per aprire un conto corrente. La banca ti offre un prodotto semplice. Zero spese, zero tasse e operazioni illimitate. Ti viene inoltre garantito un tasso di interesse annuo dello 0,5%. Hai idea di quale sarà il saldo del tuo conto corrente tra un anno se depositi 100 euro oggi? No, non saprei proprio come calcolarlo. La risposta è 100 euro e 50 centesimi. Prima di spiegarti come l'ho calcolato, vediamo di fare un po' di chiarezza. Iniziamo con il capire cosa si intende per interesse e tasso di interesse. Chi presta del denaro e tu, depositando i tuoi risparmi, lo fai, si aspetta in cambio una remunerazione per il fatto di rinunciare ad utilizzarlo. L'interesse è il corrispettivo che ottieni prestando del denaro, alla banca nel nostro esempio, per un certo periodo di tempo. Questa remunerazione, che di solito è positiva, è calcolata come una percentuale detta appunto tasso di interesse del denaro prestato o depositato. Il tasso di interesse si definisce sempre rispetto ad un determinato periodo di tempo, che per noi ora è l'anno. Si parla in questo caso di tasso di interesse annuo. Ti seguo. Ma quindi, come hai calcolato il saldo del conto corrente? Nel nostro caso, l'interesse sarà di 100, il capitale depositato, moltiplicato per lo 0.5%, cioè 0.5 diviso 100, dunque 50 centesimi. Così, dopo un anno, avrai 100 euro e 50 centesimi. Bene, ora mi è più chiaro. Ora prova tu. Cosa succede se il versamento iniziale di 200 euro e il tasso di interesse applicato è pari al 2%? Dunque, l'interesse sulla somma depositata dopo un anno sarà il 2% di 200, ovvero 200 moltiplicato 2 diviso 100, cioè 4 euro. Quindi, il saldo sarà di 204 euro. Giusto. 200 moltiplicato per 1 più 0.02, che fa proprio 204. E dopo due anni cosa succede? In questo caso devi considerare anche gli interessi maturati nel tempo, che riproducono a loro volta interessi nei periodi successivi. Continuando con il nostro esempio, il saldo del tuo conto corrente dopo un anno sarà pari a 204. Per calcolare gli interessi maturati fra il primo e il secondo anno, non partiremo più dal capitale iniziale di 200, ma da 204. Gli interessi maturati nel secondo anno saranno dunque pari a 204 per 2 diviso 100, che è pari a 4.08 euro. Il saldo dopo due anni sarà quindi pari a 204 più 4.08, ovvero 208 euro e 8 centesimi. Come puoi vedere, il saldo è uguale a 200, il capitale iniziale, per 1 più 0.02, per 1 più 0.02, cioè 200 per 1 più 0.02 al quadrato. Ho capito. E per gli anni successivi? Procedi nello stesso modo. Matematicamente, se vuoi conoscere il saldo finale, detto anche montante, dopo t anni, avrai che esso è pari al capitale iniziale, c, moltiplicato per 1 più i, elevato alla t, qualunque sia il tasso di interesse i. Questa è la regola da applicare e qui a fianco vedi come il saldo cresce all'aumentare degli anni, investendo 100 euro al tasso di interesse del 2%. E cosa succede dopo sei mesi? O dopo due anni e mezzo? Uso la stessa regola? Partiamo dalla prima domanda, ovvero dal saldo dopo sei mesi. Innanzitutto, poiché il tasso di interesse è annuale e il tuo periodo di riferimento è un anno, il tempo T da usare nella formula deve essere espresso in anni. Quindi, sei mesi sono 6 diviso 12 mesi, ovvero 0,5 anni. Immagina di depositare 200 euro sul tuo conto, tasso di interesse anno pari al 2%. Utilizzando la formula di prima, dopo sei mesi avrai 201,99 euro. Adesso prova tu. Cosa succede dopo tre mesi? Tre mesi sono 3 diviso 12 mesi, quindi 0,25 anni. Il capitale iniziale è 200, il tasso è 0,02... Credo di aver bisogno di una calcolatrice. Sì, non sono conti da fare a mente. Devi calcolare 200 moltiplicato per 1,02 elevato allo 0,25, ottenendo circa 200,99. Quindi dopo tre mesi avrai sul tuo conto circa 200,99 euro. Dopo quattro mesi 201,32 euro. Dopo sei mesi 201,99 euro. Dopo un anno avrai, appunto, 204 euro. Tutto chiaro? Sì, grazie. Quello che ti ho appena descritto viene chiamata legge di capitalizzazione composta. Non è l'unica legge con cui gli interessi sono calcolati. Per periodi inferiore all'anno, il calcolo degli interessi può essere effettuato anche con la legge di capitalizzazione semplice, che ora provo a spiegarti. Ok, sono pronta. Nella legge di capitalizzazione semplice, gli interessi maturati sono direttamente proporzionali al tempo e al capitale iniziale. Nel nostro caso, investi 200 euro al tasso del 2%, significa che dopo un anno avrai ottenuto un interesse di 4 euro, dopo sei mesi di 2 euro, dopo tre mesi di 1 euro, e così via. Dopo sei mesi il saldo finale sarà pari a 200, il capitale iniziale, più l'interesse pari a 2 euro. L'interesse pari al capitale iniziale è per il tasso di interesse per la frazione di anno considerata, in questo caso sei mesi, cioè 0.5 anni. Quindi è pari a 200 per 2 diviso 100 per 0.5, cioè 2 euro. In sintesi, il saldo al tempo t sarà m uguale a c più c per i per t, che si può anche scrivere come c per 1 più i per t. Ricapitolando, in capitalizzazione semplice, dopo tre mesi avrai sul tuo conto 201 euro, dopo sei mesi 202 euro, dopo un anno 204 euro. Non una grande differenza. Sì, in effetti non c'è una grande differenza per piccoli importi tra le due leggi di capitalizzazione. Fin qui hai parlato di periodi inferiori ad un anno. E per periodi più lunghi? Ci sono sempre due possibilità, la capitalizzazione composta oppure la cosiddetta capitalizzazione mista, che consiste nell'applicare il regime della capitalizzazione semplice per le frazioni d'anno e quello della capitalizzazione composta per molti plinteri di anno. La capitalizzazione mista è la legge usata, ad esempio, nei conti correnti. Faccio prima a spiegartelo con un esempio che facendo di tanta teoria. Se depositi 200 euro in un conto corrente il 1 gennaio al tasso di interesse del 2%, dopo due anni e mezzo otterrai 210.16 euro. Questo saldo è ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per i due termini che vedi. Il termine 1 più 0.02 al quadrato è dovuto ai due anni, mentre il termine 1 più 0.02 moltiplicato per 0.5 è dovuto alla restante metà d'anno. Alla fine avrai 210.16 euro. Con la capitalizzazione composta invece avresti 210.15 euro. Ho capito. Grazie. Certo che queste regole sembrano complesse. Sì, ma si tratta di convenzioni che è bene conoscere. Puoi fidarti della tua banca, ma è sempre meglio saper rifare i propri conti. Hai proprio ragione. Cercherò di stare attenta. Grazie. Grazie. Grazie.